eh ma si è bloccato lì? quello dietro lo sta tirando e quello che rema? e quello dove va? c'è quello che rema vai dai che ce la fai vai che lo becchi dai qua le due ore questa cosa pensa si scappa e no c'è il tipo lì, come fai? ma io perchè metto il tipo lì non vado cioè quello ha fatto muovere quello ha fatto muovere la barca questo adesso paga i danni la barca che si è scusa tutte che le fanno ma non credo che abbia questo qua provvedo di soldi com'è un figlio di papà? rappresentando come ci ho andato ahahah 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 questo qua per me è un video è due ore per lì ahahah 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 oh no è due ore per lì ahahah sperazzo mai vista la guardia civile mai? i sei anni che sono qua no perchè non ho mai visto una roba del genere ma la prima volta tanto passa ma passa la barca si no è la prima volta un deficiente è così secondo me ho appena arrivato e fammi dirlo ahio guarda arriva guarda arriva guarda arriva guarda arriva guarda arriva guarda arriva guarda arriva